Sugar Pulp, perché il nord-est, la bassa, la grande pianura padana non sono più da oggi un paese per vecchi. Ok ragazzi, stiamo uscendo dal passante, mi sa, per entrare in A4. La mitica A4, qua fra poco vomito, si continua qui. C'è una cura che neanche è Indianapolis. Non parlare con Galan che si è esaltato per questo nuovo passante. Veramente lunedì notte ci siamo noi e due camionisti rumeni, un marocchino e Matteo Strugul che si è perso nella notte. Speriamo non sia Trieste a questo punto. Scusate ma siamo un po' in prossimità del casalotto stradale. Allora ragazzi, primo esperimento con i video per Sugar Pulp. Non sappiamo ancora come verrà perché lo monteremo nei prossimi giorni. Come vedete la qualità video è quella che è, ma l'importante è il messaggio, è il posto in cui siamo, ovvero l'A4 che rappresenta gran parte del nostro territorio, che taglia il Veneto da una parte all'altra. Noi ci siamo divertiti, abbiamo passato una giornata splendida insieme a persone fantastiche. a partire da John Lensdale per arrivare ai Lovat che veramente ci sono dimostrati dei mecenati. Qua ci sono gli sbirri. No, ma gli sbirri non ci fermo, stanno già facendo il culo a... A un romero. Sì, con la BMW vecchia. The Gypsy Car. Proprio singherazzo. Però a parte questo dicevo... Però a parte questo voglio dire... Ringraziamo i Lovat veramente dei mecenati. Una famiglia splendida, un ambiente familiare anche con noi. Sì, i Lovat si sono dimostrati come sempre dei partner perfetti per il nostro movimento e i partner sicuri con i quali in realtà anche in futuro organizzeremo, spero, mi auguro, sempre più incontri a partire da quello che sarà il clou per il 2011, cioè lo Sugarpan Festival, al quale il nostro caro amico, ormai possiamo dirlo, John Lensdale, ha promesso di partecipare in veste di ospite d'onore. Quindi ragazzi, questa è un'anticipazione clamorosa che Brunoro e il sottoscritto vi danno in questo video. L'anno prossimo Sugarpan Festival, John Lensdale, ospite d'onore. E non vi aggiungiamo altro perché ci saranno altri nomi molto importanti, non solo lui, molto grossi. E piano piano avrete altre notizie su questo, che è un avvenimento e un evento che ormai sta prendendo davvero corpo. Adesso chiudiamo, anche perché ci siamo drammaticamente persi tra tangenziale di mestre e passante a quattro, in qualche modo riusciremo a trovare il Padova Est, anche perché se no ci arriviamo, ci arriviamo. Dorniamo qua in macchina. Buonanotte per noi. Noi andiamo a letto. Magari tu te lo guardi alle tre del pomeriggio, buon pisolino, buona digestione. Grazie per voi, per noi di arrivare a casa, con questo stacchiamo, alla prossima. Ciao ragazzi, viva Sugarpulp! Sugarpulp, perché il nord-est, la bassa, la grande pianura padana, non sono più da oggi un paese per vecchi.